Si affrontano la Triestina e la Pro Vercelli, l'Unione e la squadra di casa ovviamente oggi ha l'obbligo di riscattarsi dopo un periodo grigio da cui è in parte uscita con l'ultimo pareggio in trasferta in quel di Trento. Destra prova a mettere in movimento Vigiani in profondità in direzione della punta Comi, il pallone che riesce a recuperare al centro il tocco, Triestina che rischia tantissimo qui. Giro palla a favorire Valocchia il quale alza la testa, prova il rilancio in profondità per Vertain il quale controlla in qualche modo tra due versari, calcio a rete! Triestina che riparte con Germano in direzione di Elazrac, a spazio sulla sinistra ci sarebbe Valocchia, lo serve in corsa, Valocchia va al tiro, il sinistro, preda del portiere. Elazrac, pallone invece per Germano, limiti nell'aria, il tiro, giro! Gran parata, gran parata di Rizzo. Jotti direttamente al tiro, ribattuto di testa da Etu Vertainen, il pallone di testa poi libera Bielefeld. Chi calcia, finta di Valocchia, tiro di Elazrac, ribattuto sul fondo! Per un istante l'illusione ottica che potesse finire in rete. A cercare di recuperare la sfera che va in profondità, testa di Bunino per Comi, poi Rutigliano si gioca l'uno contro uno con Rizzo, pallone toccato da Bielefeld, Rutigliano pericoloso! Rosso è parata! Jotti, pallone a spiovere in aria, pericoloso! Gol! Gol del Provercelli! Gol del Provercelli nel momento migliore della partita con il suo centravanti Comi che è di testa sul calcio d'angolo al 66esimo minuto. Sblocca la partita, Triestina 0, Provercelli 1, Correia alza la testa, se ne va tra due avversari, prova a toccare in direzione di Bielefeld che prova il tiro! Gol! Gol della Triestina! Bielefeld servito in aria, l'esterno, il terzino della Triestina che pareggia le sorti dell'incontro. Dunque ora la gara ancora apertissima, 1-1 al settantesimo e spiccioli. Bielefeld in gol per la Triestina, chiama il cross al centro, liberato da Vigiano e finisce qui. Finisce qui la partita, 1-1 al Rocco fra Triestina e Provercelli.